Che facciamo oggi? Quella palla! Che vuoi? La palla? Dai, cosa si dice? Palla? Palla chiosa Chiosa, la palla appiccicosa Quella palla men Quella di Spider-Man che è rossa Che è Tiana Menia Che è Tiana Menia Questa non l'ho capita ma va bene Tiana Menia mamma non ha capito C'è una menia Wow! Allora vediamo che c'è Una boccetta, e ora piano piano lo scopriamo amore La pipetta Questo Spider Qui sono le istruzioni Che è? La paletta, guarda Wow! E qui ci sono Le fascette per fare tutto Wow! Vedi questa che così diventa Questa è una sorta di palloncino E' già appiccico su anche questo Allora Vediamo come si fa Sì, questa è quella Questa è per fare la palla, vedi? Ci metti la palla dentro E poi lo chiudi con questa fascetta Sì! Sì? No! Allora, contenuto del kit Colla Soluzione attivatrice Colorante Retina Palloncino transparente Fascette di plastica Spadolina E pipetta Colla Soluzione attivatrice Sì, Tiana Menia Sì, Tiana Menia Vediamo come si fa? Sì Allora, terza in un bicchiere di plastica Non fornito nel kit L'interno contenuto del fragone colla Prendiamo il bicchiere di plastica? Sì Mamma ce l'ha Solo così Non ce l'ha trasparente Allora Menti, non mi ti rilassica L'interno kit del No, no, tu non aprile Tu stai fermo Tu stai buono Fai questo Questo va fatto prima Va fatto questo Aspetta Matti Va fatto questo Lo apriamo Lo apriamo Se avessimo delle unghie decenti Aspetta che te lo apro Eh, mamma lo stava prendo con... Ti piace quel palloncino là trasparente? Sì Allora, dai La colla Eh, mamma si è già incollata tutta la dita Eh, viva La mettiamo tutta, tutta nel... Qua, qua La metti tu? Va Vai Oh, wow, va bene Ok, poi che dici? Aggiungi circa trenta gocce del colorante Ulche No, Ulche dopo Dobbiamo mettere trenta gocce di colorante Dice circa Il colorante è questo qua Spiderman Trenta gocce Contiamo? Sì Piano piano, eh Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette Otti, nove Diece Unci, due, tre, quattro, vetti Sedici Sette, diciotto, c'è nove Venti Venti Ventuno Venti 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 Quattro Venti Venti Adesso bisogna mescolare Con la spatolina Questa è la spatolina Mescoliamo Ti piace? Si Adesso dobbiamo fare una cosa Mi prendi? Dove vai? Devi fare un che va fatto con la pipetta No Lo fa la mamma questo Che sei matto Adesso dobbiamo fare un che Allora un che è quello Allora un che Si Aspetta Bisogna leggere le soluzioni amore C'è scritto a questo punto Aggiungi 30 ml di soluzioni attivatrice Pare a 10 pipette e ben riempite Ben riempite 10 pipette 10 pipette Apriamo questo Facciamo le 10 pipette Allora mamma ti riempie la pipetta E tu la svuoti Va bene? Ok? Mamma ti riempie e tu la svuoti qua dentro No Non c'è Vabbè Dai Vai la svuoti qua La svuota mamma Spingi Spingi sopra Forte forte Uno E vai No Aspetta amore Due Amore non si può avversare in quella maniera Perché va fatto un'altra Tre Vai Quattro Però siccome non lo stiamo riempendo fino alla fine Lascia 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 Ne facciamo uno in più Cinque C'è la maniera Mamma Sei Mamma Eh Oh oh Hai fatto un macello Vieni qua Dai Sette Otto Nove Riesci Adesso ci dobbiamo fare un po' di conti Perché Facciamo Zero Cinque Tutte le volte Quindi Cinque Un po' di conti Un po' di conti Quasi Un po' di conti Sette Un po' di conti Sette No Sette Più o meno Due pipette Per fare Sette Ok Diciamo che abbiamo fatto Trenta ml Questa la chiediamo Questa Mescola con la spatolina Per qualche minuto Ad un certo punto Vedrai che il tuo peorote Si trasforma Il liquido Inizia a rapprendersi A staccarsi dal fondo E dalle pareti Del contenitore Formando dei figli È il momento magico Della formazione Il tuo smile Andiamo Per qualche minuto Guarda Che si sta facendo Mettiti qua Avicino a me Hai visto Adesso aspetta Quello lo dobbiamo mettere Dentro Quando appena Quando mamma Ha girato Lo dobbiamo mettere qua dentro Guarda Guarda Però ancora dobbiamo arrivare Fino in fondo Facci 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 Tu Facci Tu Facci Tu Porca Aspetta 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 Lo dobbiamo mettere dentro Vediamo se si stacca tutto Che cos'è lo slime? Appiccicoso Aspetta Lo dobbiamo metterlo Adentro Ora voglio vedere Come ce lo mettiamo O là dentro Ok Guarda Quasi pronto Sì quasi pronto Sì quasi pronto Adesso Ma mamma è tutta appiccicosa Adesso lo dobbiamo mettere tutto qua dentro Sai come facciamo? Non lo so Eh? Qua Eh così Facciamo così Guarda Facciamo così Guarda Allora Anzitutto ci sporchiamo le manine Prima Sì Oppa Perché dobbiamo far sparcare questo Ah Ah È tutto accicoso Facciamo così Guarda Aspetta Aspetta È tutto accicoso È tutto accicoso Sì Facciamo così Vediamo se ci riusciamo Ah che S'appiccicoso Vediamo se si stacca Oh Si sta attaccando Eh Tanto Tanto No troppo Bello Aspetta Che lo mettiamo tutto Eh Uplala Facciamolo staccare Ah È attaccato Aspetta 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 Boom 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 Ecco Mamma si sta Ah Questa mamma È tutta accicosa Pure mamma Sei accicoso Siamo accicosi tutti Ah È molto accicoso Questo Guarda Ah Uh Guarda Uh E come lo mettiamo Dentro questo Ah 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 E come lo metto lì Sono tutta accicosa Pure io Troppo Lotto Come facciamo Lo riesci ad aprire Cioè mamma Lo metti dentro No no Non lo spingere Se no esce tutto Mamma Si è fatta nuova Ti è fatta Ma se noi questo Non ce lo mettiamo Dentro Si Lo dobbiamo mettere Forza dentro Allora apri Vedi se ci riesci A aprire Perché mamma Non ci riesce Ormai Ah Non ci riesce Non ci riesce Ma così dai Ce lo teniamo fuori Questo No E come facciamo Scusa Scusa Andiamo Ripetiamo Nel bicchiere Tanto è poco poco Forse se mamma riesce a saccarsi Aspetta Aspetta Aiuto Mattia Non fare niente Amore Fermo Non fare niente Non fare niente No 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 Che ne è Take me Stai facendo Ma so Non mi pare Non stai facendo niente Niente Allora No 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 Mattia 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 Giulia mamma Dai Che no facciamo un macello Dai che dicono poi Abbiamo fatto questa cosa qui Procedi con la chiusura Posizionali attorno al palloncino Tenendone ben chiusa l'imboccatura Il collo del palloncino Vediamo che succede Sì Il secondo loro è fatto Facciamo così Sì Opa Così Va bene così Sì Chiudiamo con la fascetta Dicono loro Che dove l'ha messa Una macchua Questa eh E vediamo Che succede Guarda 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 Vediamo con la fascetta Ben bene No no Guarda Gli scivolano le mani Vediamo Funziona Fai tu Spingi forte forte Non ci riesci più forte Qua ancora esce un po' di Cosa che era rimasto poi Forte forte Guarda Uno due tre Uh Facciamolo vedere Qua è sceluto Qua non vediamo meglio eh Facciamo vedere Uno due tre Buah Ti sei divertito? Ti sei divertito? Sì Saluta un po' Ciao 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 Ciao